con luca cogni alla ripresa degli allenamenti luca domenica rientro con gol immediato non potevi chiedete di meglio sì sì siamo contenti perché rientro e gol soprattutto una partita difficile dove si faceva fatica a sbloccarla e diciamo che ha avuto una valenza doppia però adesso ci dobbiamo già concentrare per domenica perché un'altra partita difficile non possiamo sbagliare ecco come sono stati come sono stati questi giorni lontano dal campo anche se poi fondamentalmente si è stato sempre qui con i tuoi compagni a recuperare il più in fretta possibile sì è dispiaciuto questo stop perché comunque non ho avuto problemi fino adesso ho saltato queste due partite di campionato però fortunatamente la squadra ha fatto benissimo sono arrivati sia a due vittorie che al passaggio del turno quindi l'importante era quello e adesso sono tornato a disposizione per cercare di chiudere intanto quest'anno solare nel migliore dei modi possibili si siamo in periodo di mercato ovviamente una cosa che a te non riguarda ma torniamo ad agosto e raccontaci un po' come è andata questa adattativa che ti ha portato qui a giulianova ma come come già avevo detto diciamo che inizialmente non è non era nella mia idea quella di scendere eccellenza poi dopo è arrivata la chiamata del direttore triboletti che che mi ha convinto ho percepito un grandissimo entusiasmo e che poi si sta si sta poi dimostrando partita dopo partita sia da parte della società della squadra della piazza quindi sono stra felice di aver fatto questa scelta e la rifererei tutta la vita ora due partite difficilissime e poi la sosta come ci arriva giulianova arriva bene perché comunque passaggio del turno in coppa e le ultime due vittorie in campionato ci ha dato fiducia alla quale abbiamo sempre avuto e sappiamo che siamo sulla strada giusta dobbiamo continuare così però affrontare partita dopo partita nel migliore dei modi possibili che sappiamo che è un campionato difficile però anche l'infermeria si sta svuotando quindi siamo contenti e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi possibili l'anno grazie a tutti grazie a tutti